La conviviale natalizia del Panathlon Club Cremone è ancora una volta un inno allo sport con la consegna dei riconoscimenti per l'anno 2018. La targa al merito sportivo, riconoscimento che viene assegnato a dirigenti e tecnici che con impegno, passione e costanza si dedicano all'attività giovanile in società sportive e dilettantistiche curando la formazione dei giovani non solo dal lato sportivo ma anche educativo e morale sono state consegnate a Claudio Bencina, ex giocatore della Cremonese, che oggi si dedica ad allenare i giovani a Daniele Tolomini, da sempre impegnato nella divulgazione della ginnastica artistica e a Diego Trevisi, dirigente della Pieve 010. Per lui ha ritirato il presidente Lorenzo Denni. La settima Coppa Nolli, destinata ad atleti disabili che si sono messi in luce nel corso dell'anno a società che si sono distinte nell'attività promozionale dello sport paralimpico, è stata consegnata alla cooperativa sociale Agropolis, che il prossimo 23 dicembre compierà 30 anni. Un riconoscimento per la settimana diversamente uguali, giunta alla decima edizione, iniziativa che unisce la prestazione sportiva di soggetti normodotati a soggetti appunto diversamente uguali. Le coppe alquati, destinate agli atleti under 21 con meriti sia in ambito sportivo che scolastico, sono state consegnate alla giovanissima ciclista Federica Venturelli, classe 2005 di San Bassano, e a Nicola Sabrighenti, tesserato della Cremona sportiva Atleti Carvedi, per la disciplina del lancio del martello. Premiati da Meo Sacchetti, allenatore della Vanoli e ospite d'onore della serata. Premi speciali sono stati poi assegnati a Giacomo Gentili, campione del mondo del canottaggio nel 4 di coppia, che si trovava a Roma per la consegna del collare d'oro del Coni, per lui ha ritirato il presidente della Bissolati, Maurilio Segalini, e al decatleta Dario Dester della Cremona sportiva Atleti Carvedi. Il 61esimo trofeo Panathlon, vero e proprio Oscar dello sport cremonese, che ogni anno viene assegnato all'atleta che si è maggiormente distinto, è andata alla ciclista Marta Cavalli, assente anche lei perché impegnata con la nazionale in quel di Livigno. La serata è stata anche l'occasione per presentare i nuovi soci del Panathlon Club Cremona, Massimiliano Regonelli, Roberto Romagnoli, Federico Zamboni, Giancarlo Arisi, Alberto Lancetti e Marco Montagni.